Il lettore procede ora alla proclamazione dei laureati dell'Università Politecnica delle Marche, sessione estiva 2016. In nome del popolo italiano. In nome del popolo italiano, per il potere conferitemi come rettore, vi proclamo dottori dell'Università Politecnica delle Marche. Buon volo a tutti. Un'ultima cosa, solo per salutarvi. Questa è stata la prima edizione di questa festa e di questo modo di incontrarci tutti quanti. Vi ringrazio per aver partecipato. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa festa. Io ho solo avuto un unico incarico che penso di aver rassolto bene perché il mio compito era quello di garantire il bel tempo. E io il bel tempo l'ho garantito. Buon volo a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.